Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su I Expect You To Die. È un gioco davvero molto 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 particolare perché è basato appunto VR, come potrete vedere, adesso io sto gesticolando in qualche modo, e non è un gioco sicuramente per tutti, è diviso diciamo in due capitoli, c'è I Expect You To Die 1 e poi c'è il 2, l'1 al momento è l'unico tradotto, siamo degli agenti segreti con dei poteri, infatti puntando possiamo andare a muovere gli oggetti in lontananza e mandarli via, in modo che possano, e fissarli poi quando vogliamo, in un punto, in modo che possiamo giocarlo tranquillamente da seduti. Infatti io sono seduto su una serie di agirevoli, insomma abbiamo varie cose, possiamo fare, ogni tanto vedrete probabilmente spuntare anche una... no, probabilmente non la vedrete in video, io sto uscendo di poco dalla zona di sicurezza. e avremo delle situazioni abbastanza statiche da risolvere. Ora, io voglio rigiocare questa missione che ho finito, nuovamente, e quindi la... ve la voglio far vedere. Non ci siamo infiltrati, adesso non sto lì a spiegarvi il tutto di come è successo, però ci troveremo in quest'auto. che quest'auto non deve raggiungere Zanzibar, è dotata dagli armamenti qui all'avanguardia dell'astroarsenale del Torso. Allora, intanto iniziamo a vedere che abbiamo uno schema su come attivare un cannone, lo facciamo qua, poi possiamo... lì fuori... ve l'ho detto, l'ho già fatta, quindi non voglio dilungarmi, ma non neanche... cioè, non voglio correre verso la fine, voglio farvi vedere un pochino quello che ha da offrire il gioco. Abbiamo lì un coltellino e dei soldi, quindi io adesso prendo il coltellino, ma lo tengo qua, che mi potrebbe servire dopo. Abbiamo un altro schema per disinnescare una bomba. Ovviamente se muoiamo, perché il titolo dice I expect you to die, in quel caso ricomincerai a zero. Fuori, come notiamo, c'è del gas, c'è del gas penoso, quindi quest'auto sta andando e non è utilizzabile. Io ora cerco di attivare un pulsante, non succede niente, perché probabilmente è andata girata la chiave. Ok, l'auto è stata accesa, posso premere addirittura il pedale andandogli addosso? Ah, dobbiamo farci fare la scansione della retina? Ok, riprova. Ora mi faccio vedere un'altra. Allora, rifacciamo. Rimetto la cosa qui. Perché l'auto proverrà a ucciderci. Quindi abbiamo modo di prendere di nuovo tutto, che poi ci servirà tutto. Prendo la chiave. Ok, facciamo. Accendo l'auto, metto la marcia. Vado a fare la scansione della retina. Ora mi sposto. Alla contromisura secondaria, cioè una bomba. Allora, questo lo ha risolto al primo colpo. Praticamente coltellino. Qua vedete, ci dice come armare la bomba, quindi va fatto tutto al contrario, quindi l'uno e l'ultimo va armato, quindi il giallo per primo. Giallo, il blu, e poi il verde. Ok. Poi, nulla ci vieta di prendere... Va bene, intanto il sigaro io lo vorrei un attimo... Ok. Cioè, nulla ci vieta di scendere una di quelle, però al momento direi di no. Allora, intanto potemi buttare questi candelotti sotto, perché se avete difficoltà a prenderli, perché sono fisicamente sotto di voi, li usate così. Ok. Vabbè, ascolta, adesso qua fuori prendo subito il cacciavite e butto il sigaro. Chiudi, 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 chiudi prima di morire. Ok. Stavamo per rimanere fisici. Adesso, apriamo questo. Come dice il nostro disegnino qui. Ho un candelotto, lascialo dov'è, per favore. Questo. Possiamo piazzarlo, però volendo qui. Così ci rimane lì fluttuante. Abbiamo questo. C'è un master reset. Ok. Hanno immesso in online le... Ok. Vedete che qua abbiamo il modo di... Cioè, questo è un caso molto semplice. Io prendo un... uno di questi e poi acceleriamo e ce ne andiamo. E quindi vengono aperti per la cadute e la... diciamo che la nostra auto è messa in salvo. Questo in sintesi è quello che ha da offrire questo gioco. Cioè, è basato su delle... una sorta di escape room statiche, cioè dove voi siete seduti sempre nello stesso posto. e quando andate poi a togliere e mettere via i vari livelli ne avete altri sempre più ricchi e interessanti. In questo caso andiamo a... vediamo subito perché c'è uno che parla un po' troppo di realità. E qua ne abbiamo uno nuovo. Siamo in un... in un terrazzo. Credo. Sì. e bisogna capire. Riteniamo che la Zoraxi sta creando un super video assolutale. Sappiamo che Zara vuole vendicarsi della Geneschiama costruire un tantino esterno. Entra in quel laboratorio e spiega passo passo come fare un'attività. Quindi io prendo questo. Vabbè. Niente. Abbiamo anche una pistola. Una spugna. E abbiamo come sapere altre cose. Un po' questo. Sì. Eh no. Non possiamo entrare. Cioè dobbiamo per forza... Abbiamo anche un termos. Ah ma siamo proprio chiusi fuori. Sì. Questo è per completare degli obiettivi probabilmente potresti venire con il mio ufficio stesso. Ah eh? No. Ok. L'ho messo tutto in sicurezza. Espace. Catena. Posso prendere il pulsantino magari. Intanto posso prendere il pulsante. momento di identità e chiesto. Oh oh. Ok. Mi stanno uccidendo. In questo modo vedete che poi è comparsa tutta la serie di cose. Eh. Potevamo anche leggere questo. In effetti. Aspetta ma se prendo questo me lo metto dentro il boccano. Niente. È finita. Gas venenoso. Siamo morti. Perché appunto il titolo dice I expect you to die. Quindi insomma. Questo è un modo. Ma credo non ci siano altri modi per entrare. Quindi bisogna per forza abbattere. e poi muoversi e uscire da questa brutta situazione. Beh credo che non abbia senso continuare e mostrarvi tutti i livelli. Tutto il livello. Insomma spoilerarlo. Il gioco è davvero molto interessante. Tra l'altro io ho buttato giù il vetro solo andandogli addosso. Però se sparassi quello veloce. Merda. Ma io posso con la telecinese aprire questi armadietti e tirare fuori roba. Ah dice di passare un documento di identità. E dice un documento di identità. Ok. Va bene. Cioè bisogna miscelare un antivirus. Va bene. Ragazzi io mi fermo qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo. È davvero molto molto interessante. Mi scuso per come probabilmente vedete l'immagine. Perché non tiene conto diciamo di tutto quello che io vedo. Ma è una porzione. Però insomma spero vi siate fatti un'idea. Calcolate che ormai i PR. Soprattutto quelli magari usati. Li potete trovare a poco. Se vi può interessare questa esperienza. Fatemi sapere cosa ne pensate. E alla prossima ragazzi. E ciao ciao. 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 Grazie a tutti.